Dopo tre giorni lo trovarono nel Tempio, questo ragazzino di 12 anni già maturo, dopo tre giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Oggi i nostri ragazzi né ci ascoltano e né ci fanno più domande, ci interrogano perché hanno già capito che la maggior parte di noi adulti diciamo sempre le stesse cose, non li aiutiamo a capire la bellezza e anche il dramma della vita perché gli vogliamo risolvere subito i problemi, sbagliamo carissimi amici, quando diamo troppo ai figli e gli facciamo più male che un bene, sono contenti in quel momento ma poi il problema è più serio e più profondo, il problema della ricerca del senso. Allora Gesù ascolta e chiede perché è stato educato bene dalla mamma e dal papà, ma non a forza di parole e di predica, ma con il loro comportamento. E tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Ecco, bisogna pensare al fascino di Gesù, al fascino umano di Gesù, perché quando tu hai una mamma come Maria di Nazareth, un papà come Giuseppe di Nazareth, che ti allevano, lei che ti ha avuto come ti ha avuto, lui che ti ha avuto come ti ha avuto, è tuo padre ma non è tuo padre, quando vieni trattato con questo distacco, con questa reverenza e con questo rimando a colui che fa tutto, a Dio, ecco questo è il segreto della vita di noi uomini, perché sennò diventiamo mostruosi carissimi amici. Il diavolo è un angelo bello, intelligente, che però poi diventa un mostro, mostruoso. Mi è rimasta impressa la testimonianza di Visca, quando racconta che lei è Iacov, l'altro veggente, il più piccolo, che un giorno la Madonna gli ha fatto vedere a tutte e due il paradiso, il purgatorio e l'inferno. Quello che mi è rimasto impresso è quando lei racconta che mentre le persone entrano nell'inferno, non entrano con la fisionomia umana, ma si trasformano in mostri, nemmeno bestie, perché le bestie sono creature di Dio, in cose orribili. Ecco questo perché perdiamo la nostra immagine e somiglianza con Dio, di figli. Invece Gesù, capite, è cresciuto sempre con un padre e una madre in armonia e in rapporto con Dio. Ecco, prima abbiamo sentito che la Madonna e Gesù Bambini il giorno di Natale benedicono quelli che partecipavano a questo momento di preghiera durante l'apparizione, il segno di croce. Il segno di croce vuol dire proprio questo, ecco l'asse verticale, questo nostro rapporto con Dio, con il mistero e il nostro rapporto con il prossimo. Amare Dio con tutta l'anima, con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, è il prossimo nostro, è chi ci sta vicino come noi stessi. Ma se non abbiamo lo Spirito di Cristo, amici miei, non ci riusciamo ad amare. Ecco, questo è il segreto semplice. Allora erano stupiti, pieni di stupori per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre, Maria, gli disse Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. La risposta di Gesù, ecco, non la dimentichiamo, carissimi amici, Io la custodisco gelosamente perché ci fa capire una miriade di cose, specialmente le cose sbagliate della nostra vita. E Gesù rispose loro, perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Ecco, chi ha detto a Gesù? Dobbiamo immaginare, perché guardate, il cristianesimo non è una filosofia, un ragionamento, un immaginarsi come Dio, che intenzioni ha, perché ci ha creato. No, no, il cristianesimo è un avvenimento. E questa ragazza di 15, 17 anni, che rimane incinta, non come mia madre e tua madre perché ha fatto amore con papà, con un uomo, ma per opera dello Spirito Santo è rimasta incinta. Ed il marito, prima di crederle, ha vissuto un'angoscia, un tormento grande, come ci ha raccontato il Vangelo proprio il giorno di Natale. Voleva ripudiarla in segreto. È dovuto intervenire Dio nel sogno attraverso degli angeli e dire non avere paura, Giuseppe, di prendere con te Maria, tua sposa, perché quello che è generato in lei non è opera di un altro uomo. E' tutto qui, quindi immaginiamo cosa a 5 anni, a 6 anni, a 7 anni, a 8 anni, a 9 anni, a 10 anni, cosa si dicevano? Si dicevano poche cose in quella casa. Le cose essenziali, le cose vere, la storia di questo popolo, Israele, gli ebrei, questo popolo particolare, misterioso, la storia di questo popolo, la chiamata di Abramo, e le tribù, Mosè, la liberazione della legge, tutte le tradizioni. E poi il modo con cui lei lo aveva avuto, glielo diceva, e anche Giuseppe, ecco perché Gesù risponde, ma me l'avete detto voi, non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio. Siete state voi a dirmi che io sono il figlio di Dio, sono figlio vostro, ma sono figlio di Dio. E noi, carissimi amici, i figli nostri, che ci contiamo, che ci diciamo, abbiamo solamente la preoccupazione della salute, del studio, della palestra, della scuola di calcio, della scuola di ballo, del canto, cose tutte belle, parliamo io, non mi fraintendete, però aiutiamo questi bambini, questi ragazzi, a scoprire la loro natura. Poco, amici miei. Ecco, perciò, poi non ci possiamo lamentare che nel mondo le cose vanno così. Se facciamo a gara a chi ne è l'uccio spirito, ne facciamo tanti, gran e zose, nonostante siamo giù, ci hanno preso un dosi, poi ne paghiamo le conseguenze, è inevitabile. Ecco, non ne facciamo la fine del mondo, abbiamo anche la capacità di sorriderci. Ecco, non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Il senso della vita non è cambagendane, non è riuscire, non è arrivare a mio signore, ma può cacciare un momento all'altro, ha parole, ma può cacciare... Cioè, non un signore, ha vita, perché la natura è fragile. E io accetto. Ecco, se sono unito a Gesù, accetto. Si accetta. Quando, io mi vengono spesso in mente le parole di Bernadette, ma perché ha scelto, la Madonna ha scelto te? Per apparire. Se c'era una più stupida, più ignorante di me, all'Urd, avrebbe scelto qualcun'altro, ha scelto me. E poi dopo, quando è andata in convente, dici, ma adesso, Bernadette, Bernadette, non niente, ma che cosa si fa con una scopa? La scopa la si usa e dopo si è andata a rete la porta. La cosa più bella che io desidero è che a me colpisce tanto Natuzza quando dice, nell'altra trasmissione che faccio, chi prega si salva su Telestare, anzi ve lo ricordo che ogni sabato mattina, alle nove, andiamo in onda, abbiamo ripreso l'incontro, chi prega si salva, e nella sigla c'è Natuzza che dice, io non voglio niente, voglio la gioia delle persone, eppure io dico la stessa cosa, io non è che vengo qui che voglio qualcosa, voglio convincere qualcuno. La cosa più bella è quando tu, quando io, non davanti alle telecamere, davanti alla televisione, hanno discorso, quando facciamo le cose della vita, nella gioia, nel dolore, nella salute, nella malattia, noi sentiamo la presenza del Signore e sentiamo chi la gioia, chi la pace, chi la serenità. Qua non ne veda nessuno. Chissà la bellezza di un cristianese, perché ci occupiamo delle cose di Dio. Ma essi, Maria Giuseppe, che dice il Vangelo, non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro, ecco, Gesù ha dodici anni, venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Ecco, allora io concludo. Questo è l'ultimo incontro del 2012. Ci vedremo l'anno prossimo, domenica prossima. Voglio concludere consacrandomi e spero che pure voi, sentendo la mia consacrazione, vi possiate consacrare con me alla Madonna. Ringraziamo dell'anno che è trascorso e ci affidiamo alla Madonna. Che ne sappiamo che succeda nel 2013. Per me sarà un anno particolare, perché sto iniziando questa esperienza nel carcere a Cosenza come cappellano, e quindi sto muovendo i primi passi, sto già girando ad incontrare questi fratelli e a stare con loro, a condividere un po' di tempo e questa condizione un po' strana. E poi sarà l'anno che compirò 30 anni di cammino nella fede, per cui voglio ringraziare la Madonna e affidarmi totalmente a lei, salutandovi. Maria, tu sei la madre di Cristo, madre della comunione che tuo figlio ci dà, come un dono sempre nuovo e potente, che è un gusto di vita nuova. Attraverso di te, perciò, io, noi, consacriamo tutto noi stessi, tutte le sofferenze che tuo figlio sceglie per noi e la nostra stessa vita, affinché tu diventi la madre della vita e Cristo doni a tutti gli uomini lo stesso gusto di vita nuova che ha donato a noi. Amen. Cari amici, buona domenica, buona fine e buon inizio d'anno e a Dio piacendo, arrivederci alla prossima domenica. E penso a te che per me ti sei fatto bambino come me con un padre e una madre vicino penso a quando giocavi piccino nella mano un uccellino e tua madre che guardava e tua madre che guardava e tua madre che guardava all'al savio all'al 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 Grazie a tutti.